Ha 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 ha! Che spettacolo! Sai tesoro, ho voglia di fare una bella passeggiata questa sera. Oh Thomas, non saprei. Bruce potrebbe beccarsi un raffreddore o vari proiettili. Scempiaggini! Siamo i Wayne! Nessuno ci darà fastidio a meno che non vogliono assaggiare un po' dei miei pugni. Ora, abbiamo due opzioni. Camminare attorno a questo palazzo, stando sulla strada principale, o tagliare per questo buio e disgustoso vicolo. Che vicolo sia! Papà, tu non hai paura di niente. Ha ha ha! È perché sono super ricco, figlio. E lo sono sempre stato. In pratica ti dà subito un cazzo di 30 centimetri. Soldi, gioielli, veloci! Oh mio Dio, Thomas! Un senza detto! Niente paura, tesoro. Pensarò io a questo straccione da due soldi. Messere, decliniamo la sua richiesta di denaro gratuito. Si sposti ora. Cosa? No, ti sto rapinando, idiota! Thomas! Ah, quindi è questo ciò che la gente di strada chiama sangue. Incantevole. Fallo a pezzi, papà! Ok, giovanotto. Vuoi giocare duro, eh? Beh, da gentil'uomo deve avvisarti. Sono stato campione di wrestling per tre anni di fila nella scuola in cui i miei genitori hanno deciso di portarmi. Ehi, non è uno scherzo. Oh, sto caricando il mio pugno, amico. Attento! Ora ti sparo! Oh, questo sì che farà molto male! Ora ti sparo, idiota! State tutti indietro. Bruce! Papà! Bruce! Promettimi una cosa. Papà! Mascheriti d'animale. E... Picchie... Picchie poveri. Lo farò, papà. Lo farò. Signor Wayne, va tutto bene lì dentro? Lasciami in pace! E... Ciao! Connection terminated.